Gli italiani non sanno l'inglese. Non è vero. Podcast italiano, livello B1. Molte persone dicono che gli italiani non sanno parlare l'inglese e, in generale, le lingue straniere. Io non sono affatto d'accordo con questa affermazione. È vero, le vecchie generazioni lo parlano male, se lo parlano, ma quasi tutti i giovani lo studiano o l'hanno studiato a scuola. Spesso il livello d'inglese non è eccellente, ma è sufficiente per fare una piccola conversazione senza grandi problemi. Secondo me, noi italiani conosciamo l'inglese abbastanza bene. L'unico problema è che abbiamo un accento molto forte, che rende la nostra pronuncia incomprensibile e un po' volgare. Questo vale per tutte le lingue che parliamo. Sinceramente, trovo che l'inglese sia una lingua molto facile da imparare per un italiano. La struttura delle frasi è uguale all'italiano e molte parole sono di origine latina. Inoltre, siamo esposti all'inglese ogni giorno e le risorse online per impararlo sono infinite. E voi? Cosa pensate del rapporto degli italiani con le lingue straniere? Cosa dice la gente sul vostro paese? Rispondete con un commento qui sotto. Ci vediamo. Ciao!